...e proprio questa filmina da Zene che è molto bello che si è di spirito Zeders ed è così da Garzolantai O Zene che gli devo pubblicare una nuova canzone fatta apposta O Zene che gli devo pubblicare una nuova canzone fatta Prochiette nel tempo spago go sta vindo un affollamento a criticare ...e la guerra canzone fatta apposta ...e la guerra canzone fatta apposta ma si tratta nel colla che è una cosa più grande e poi si puoi descartare bambini da l'effetto un balamo' e un pescato e non lo parleranno di rionda un mino si andate con il fan e a noi le pene con il fan bambini da l'effetto ma di un bel cavallo' e un bello' e un pello' e un bambini da l'effetto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.